Buongiorno a tutti gli amici investitori, il Futsimib prova a rimbalzare ma fin dove può arrivare? Scopriamolo in questa nuova puntata di Trading Floor in cui analizzeremo anche i titoli Prismian ed Eni. Il Futsimib apre sopra 22.300 tentando il rimbalzo dopo tre sedute difficili. Il quadro tecnico migliorerà sopra quota 22.4 ma per essere assicuro l'indice dovrebbe recuperare quota 22.6. In questo momento solo una chiusura sotto 22.000 riproporrebbe il trend ribassista dei giorni precedenti che potrebbe portare al test dei supporti a 21.5 e 21.4. Tuttavia finché la chiusura non verrà effettuata dal mercato, le aspettative sono per un rimbalzo che potrebbe avere il obiettivo finale l'area 23.000. Scopri il certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it Ottima partenza per Prismian che prova a reagire dopo le sedute precedenti. Il titolo scambia sopra quota 26 euro e punta il test della resistenza 26.50. La vittoria su questo livello aprirebbe spazio verso 27 euro che appare il target più probabile. In quell'area passa anche la media 200 giorni e quindi anche l'impostazione di lungo periodo verrà messa in discussione per cercare di recuperare l'intonazione rialzista di fondo. Il supporto importante è a quota 25 euro. Solo la violazione di questo livello con una confermata inchiusura potrebbe riproporre un trend ribassista di breve periodo. Scopri il cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it Avvio di contrattazione positivo per Eni che scambia sopra quota 14 euro. Il titolo conferma la sua intonazione positiva e soprattutto la sua forza relativa e importante nei confronti del mercato. In effetti nell'ultimo seduto e quando il mercato era in difficoltà le quotazioni sono rimaste sopra i supporti più importanti salvaguardando anche la media mobile a 200 giorni. Attualmente le quotazioni si apprestano a testare la resistenza a 14.50 euro con buona probabilità di superamento. La conferma sul grafico chiamerà in causa la resistenza in area 15 euro che appare l'obiettivo più importante e alla portata delle quotazioni. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiamo il numero verde 800 01 11 22.